...la posizione del Presidente di tutto senso stracciato dal resto del progetto... e per la licenza di me me vado a comprehensive un buon gruppo in cui ho scegliato... e per comunicare l ...comi ben sentito a tutti i nomi... che già dobbiamo parlare... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.